Avola, dissequestriati fuochi d'artificio perché detenuti legalmente e di origine lecita. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Siracusa ha provveduto a dissequestrare i fuochi d'artificio perché detenuti legalmente e di origine lecita. I fatti sono avvenuti lo scorso 29 dicembre quando la Guardia di Finanza aveva posto in sequestro un ingente quantitativo di fuochi d'artificio ritenuto illegale ai danni della rivendita Piro Wedding di Basile Paolo. L'operazione a causa del provvedimento di sequestro avvenuto alle porte delle festività di Capodanno causava un grave danno economico. In realtà la Piro Wedding di Basile Paolo è l'unico punto vendita ad Avola e provincia ad essere debitamente autorizzato alla rivendita di materiale pirotecnico giusta autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Siracusa. Il giovane Basile è in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per svolgere l'attività di vendita di fuochi d'artificio compresa quella per il trasporto di materiale esplosivo essendo titolare di patente ADR pertanto a seguito di istanza presentata dal difensore avvocato Antonino Campisi dove veniva dimostrato che tutto il materiale esplosivo posto in sequestro era di origine lecita e a basso grado di pericolosità. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha accolto la tese difensiva e revocato il sequestro di tutto il materiale pirotecnico posto in sequestro ordinando la restituzione all'avvento di diritto e in questo caso la Piro Wedding che ad oggi rimane l'unico negozio ad essere munito di debita e autorizzazione e a svolgere la propria attività di vendita di fuochi d'artificio in modo regolare nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica.